Musica Ben trovati alle TG Med Sport, il Palermo inizia o meglio continua la sua settimana più corta rispetto alle altre. Lunedì ha giocato a Castellammare di Stabia, ha allungato più 7 sull'Empoli, più 8 sul Latina al terzo posto. Adesso arriva il Brescia nel caos più totale, non soltanto societario ma anche tecnico. Il Palermo ha la possibilità di allungare ancora sfruttando anche i scontri diretti delle avversarie con l'Empoli che giocherà con il Modena. Sicuramente non è un avversario facile, invece proprio il Latina è l'avversario delle Trapani. Nuove scertezze per Iachini, intanto con il recupero anche di Belotti, ritornerà dalla squalifica Laferti, ma a Castellammare di Stabia sono stati i grandi protagonisti di Bala e Vasquez in attacco. Soprattutto Francesco Bolzoni a centrocampo, proprio l'argentino Vasquez, il giocatore che Iachini fortemente ha rivoluto nella lista dei 18 in questa seconda fase di stagione, un'altra delle vittorie del tecnico del Palermo. Allora ascoltiamo la felicità di Franco Vasquez. Una bella partita a tutti, l'importante era vincere per continuare avanti, adesso vogliamo continuare così e il sabato c'è una partita difficile contro il Brescia. Ci vuoi raccontare la gioia per il primo gol in Maglia Rosa Nero? Peraltro è una perla, è un gol bellissimo. Sì, è un bel gol, anche Paolo me l'ha dato bene sul sinistro, ho calciato e per forza è entrato e ha fatto un bel gol. Facciamo finta che mister Iachini non ci sente, meglio Vasquez mezzala o meglio Vasquez lì vicino a uno o due attaccanti? No, io mi trovo meglio avanti perché in Argentina ho giocato sempre lì e sempre ho giocato lì, però mi piace pure giocare di mezzala dove il mister mi chiede e io posso aiutare. Più 7 dall'Empoli, più 8 dalla terza, la parola d'ordine però è rimanere tranquilli perché comunque il traguardo è lontano, sei d'accordo? Sì, manca tanto, ancora dobbiamo pensare partita a partita, adesso arriva Brescia che c'è una bella squadra, ancora dobbiamo continuare così e vincere il sabato con i nostri tifosi. Settimana insolita, almeno secondo quanto è successo invece negli ultimi due mesi di campionato per il Trapani perché si prepara una partita dopo una sconfitta, non succedeva da 14 turni di campionato e allora è Boscaia che ovviamente così come non si è mai esaltato dopo le tante vittorie non si vuole nemmeno deprimere dopo questa sconfitta interna contro il Siena. Una sconfitta tranquilla, speriamo sia salutare, anzi secondo me sarà salutare perché ci fa un po' vivere la nostra dimensione che noi comunque già sappiamo, che conosciamo. Niente, da sabato sarà un'altra storia contro il Latina. Sabato abbiamo affrontato una grandissima squadra e anche soprattutto per meriti loro e per qualche demerito nostro nel secondo tempo soprattutto. Non siamo riusciti a reagire a qualche situazione importante loro e quindi niente, abbiamo perso ma se queste partite arrivano una ogni 16-17 va bene, voglio dire, era la partita col Carpi che la squadra comunque macinava, gioco e punti in continuazione. E poi la cosa che voglio assolutamente dire è che devo ringraziare il pubblico. La curva straordinaria è stata commovente alla fine perché ha capito, ha applaudito la squadra, ma tutta la tifoseria tranne qualcuno, qualche gruppo così di persone che è andato via sul 2-0. La nostra squadra non merita di non essere guardata, la nostra squadra merita di essere guardata fino alla fine anche quando perde. Probabilmente qualcuno aveva parcheggiato male la macchina e ha pensato bene ad andarsene via prima, però la stragrande maggioranza del pubblico è stata commovente. E quindi li voglio ringraziare pubblicamente da parte mia e da parte della squadra, la curva meravigliosa. Ha fatto parlare di sé anche a Sky perché poi ho visto i commenti di Sky che sono stati... La partita è passata in secondo piano, i nostri tifosi sono stati al centro dell'attenzione di tutti quanti in positivo, quindi un grazie infinito alla nostra curva e comunque anche alla gradinata, alla tribuna, a tutti quelli che sono rimasti da applaudire perché la squadra nostra, i nostri giocatori meritano di essere applauditi. Quindi grazie. Sì, di grande maturità, ma non lo dico da adesso, già da un po' che lo dico, che i nostri tifosi si sono dimostrati dei grandi perché non c'è stato un minimo di contestazione con fronte della Terna che tra l'altro arbitrarò benissimo, devo dire, ed è giusto così perché quello di Cesena è un incidente di percorso che capita anche agli arbitri e ai collaboratori. Ma la grande maturità la vediamo ogni settimana con i nostri tifosi in casa e fuori casa soprattutto che sono sempre da esempio per tutti gli altri tifosi, quindi grande maturità. Ma non avevo dubbi su questo e proprio per questo il nostro ringraziamento va a loro. Naturalmente noi dobbiamo andare a Latina e cercare di fare punti. Situazione invece drammatica a Catania perché arriva lo scontro contro il Sassuolo, davvero una delle ultime possibilità per ritornare in corsa per la salvezza. Ancora non è nulla compromesso. Ha parlato il presidente Antonino Pulvirenti, lo ha fatto in 56 minuti di conferenza stampa. Ovviamente la classifica assolutamente deficitaria. Purtroppo le cose non vanno bene. Ho deciso di parlare perché ho sentito delle strane illazioni. Questo è il pensiero di Pulvirenti. Abbiamo avuto difficoltà a fare gli allenamenti. Gli infortuni quest'anno sono stati troppi. I nostri uomini fondamentali non sono riusciti a giocare con continuità. Non avete idea del carattere. Non ha usato proprio questa parola Pulvirenti che ha Bergessio perché ha giocato tre partite con un dito rotto e dieci minuti con una frattura al perone per non lasciare la squadra in dieci. Non voglio sentire dire che non ha coraggio. Noi ci crediamo. Ha continuato il presidente del Catania. Solo stando uniti riusciremo a salvarci. Può darsi che la società abbia sbagliato ma lo diremo a fine stagione. Poi un pensiero su Maxi Lopez. È andato via per problemi personali. Non poteva più stare a Catania.